Ciao! Benvenuto nel canale di AgriEuro, in questo video, ti presenteremo le caratteristiche principali del plaforbice elettrica Zanon ZM27. Ma prima di iniziare, voglio ricordarti che AgriEuro è l'unico e-commerce che permette una fornitura completa di pezzi di ricambio per tutta la vita del tuo prodotto. In caso di necessità, per riparazioni o assistenza, offriamo un supporto completo, grazie a una maxiofficina interna, o attraverso uno dei 400 centri assistenza partner, sparsi in Europa. Ma ora, vediamo le caratteristiche principali del nostro prodotto. Introduciamo la forbice elettrica Zanon ZM27, progettata per combinare versatilità e facilità d'uso in un unico strumento di precisione. Dotata della capacità di selezionare tra due diversi diametri di taglio, 15 e 27 mm, questo dispositivo si adatta a un'ampia varietà di esigenze di potatura. La modalità di taglio progressivo, insieme a questa flessibilità di diametro, evidenzia l'impegno nella realizzazione di uno strumento di qualità, adatto per diverse applicazioni. Grazie al suo peso contenuto di 700 grammi senza batteria e dimensioni compatte consente di effettuare lavorazione anche per un tempo prolungato minimizzando l'affaticamento. La forbice Zanon ZM27 è stata concepita per offrire prestazioni sostenute nel tempo, richiedendo solo una manutenzione minima equipaggiata con due batterie da 2,5 ampere ora a 14 volt. Garantisce all'operatore la capacità di lavorare per circa 2-3 ore per ciascuna batteria, consentendo così di portare a termine lavori di ampia portata senza interruzioni. Visita il sito AgriEuro e scopri le offerte nel nostro store online. Clicca sul link in descrizione per saperne di più.